Musica Tanta guagna per tutti ragazzi, qui è Joseph di Gamera e benvenuti in questo nuovo video di GTA V in cui vi mostrerò una breve guida su come guadagnare soldi infiniti, ovviamente senza trucchi Per farlo bisogna seguire un breve procedimento, ovvero recuperare delle valigette contenenti grandi quantità di denaro che si trovano sui fondali marini in determinati punti della mappa Fino ad ora si ha conoscenze di tre valigette, iniziamo subito dalla prima La prima valigetta si trova nei pressi dell'aeroporto di Fort Zancudo nel quadrante D2 della vostra mappa cartacea Potete vedere il punto preciso in video proprio in questo momento Pecatevi i fili al nuoto e immergetevi in profondità Troverete la valigetta dal contenuto di 9000 dollari proprio su una nave affondata La seconda valigetta si trova nei pressi della spiaggia di Paleto Bay, ovvero i quadranti B3 e B4 della mappa cartacea Si trova piuttosto lontano dalla spiaggia quindi vi consiglio di usare le moto d'acqua per arrivare velocemente al punto indicato Una volta arrivati, andiamo sott'acqua e sul fondale nei pressi di alcuni rottami di un aereo Troverete una valigetta contenente ben 12.000 dollari La terza valigetta si trova invece presso del Perro Beach, nel quadrante G3 della vostra mappa cartacea Non è lontanissima dalla spiaggia, ci si può arrivare a nuoto in pochi minuti Arrivati nel punto indicato, immergetevi e troverete la valigetta contenente addirittura 25.000 dollari al di sopra di una struttura affondata Come potrete quindi fare soldi infiniti? Vi basta cambiare personaggio e ritornare nuovamente al personaggio che stavate usando qualche secondo prima In questo modo la valigetta risponerà e potrete nuovamente recuperarla Ripetendo questo procedimento all'infinito diventerete ricchissimi in pochi minuti Vi segnalo però che talvolta la valigetta non comparirà dopo aver cambiato personaggio Quindi riprovate più volte appunto a cambiarlo finché non ricompare Ragazzi spero che questo breve video vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile Nel caso ricordatevi di lasciare un mi piace, un commento e di iscrivervi a Duagna E inoltre in descrizione trovate il link del mio canale dove troverete video di GTA V Tra cui cazzeggio, guida, easter egg, gameplay Quindi ricordate di passare e di iscrivervi Ragazzi qui Joseph Gamer vi saluta e alla prossima Ciao!